Qua la vita a Paperopoli è un gran ballo, corri voli in aeroplano, ma che spallo, storie di paperi, ma che bei paperi da te. Ogni giorno c'è una nuova storia, misteriosa, paperosa, da te. Fai attenzione, c'è qualcuno alle spalle che ti spia, non aver paura, sono da te. DuckDates, personaggi strabilianti, DuckDates, grandi storie divertenti, DuckDates, le favole più belle sono DuckDates.